Consigliere Malesi candiderà nella lista di Forza Italia? Ma certamente, perché io oggi sono in Forza Italia e intendo rimanere in Forza Italia, perché se così non fosse, insomma, potrebbero esserci dei problemi per la continuità dell'esistenza del partito a Lecce. Forza Italia è un partito a rischio estinzione, perlomeno a Lecce. Parole dure quelle del Consigliere Luciano Battiste, tra i primi forzisti del capologo Salentino, ma che oggi chiede di riflettere sul futuro del partito e del Presidente Berlusconi in vista delle prossime amministrative. Cioè sta dicendo che ci sono pochi esponenti che portano ancora la bandiera di Forza Italia nella provincia di Lecce e a Lecce? Ritengo che gli esponenti ci siano, ma occorrono degli esponenti che rappresentino i numeri per poter essere delle persone che chiaramente contribuiscono fortemente alla permanenza e alla crescita di un partito. Sono soltanto le urne che potranno dare poi la risposta per tutti i partiti, non soltanto per Forza Italia.